Prandin per Loschi, poi per B-Liga, le finti di B-Liga, pazzi su di lui, poi riceve Prandin contro Santa Rosa, ancora Prandin con il palleggio, Santa Rosa difende, Castelli contro Conte, ancora Castelli, recupero di Forrai, Forrai con il palleggio, la palla per Conte, Conte per Negri e l'abibale di Matteo Negri! 12-4 il punteggio, time out per Coach Lottici, per l'azione il contropiede B2Color, è arrivato come un treno Matteo Negri, l'abibale e il 12-4 per la B2Color Trento.